Big match si attendeva e big match è stato. Il Belvedere va prima in classifica da solo, quinta giornata, punteggio Pier. Il capitano caccia la manita e saluta tutti. Sì, è stata una bellissima partita. Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato a fare questi cinque gol. Speriamo che a lungo andare ce ne saranno altri. Oggi non vi potete nascondere più. Fino ad oggi abbiamo detto giochiamo per divertirci. Quello che sarà sarà. L'importante è stare insieme. Però siamo arrivati alla quinta di campionato solo in classifica ma soprattutto a punteggio pieno. Sì, sicuramente ci è andata bene. Forse anche un po' fortunati qualche volta. Però il nostro scopo è sempre divertirci. Stiamo insieme e arrivare così al fine anno. Il primo tempo sotto di un gol. Poi subito si è ripreso a giocare. Il pareggio è un secondo tempo che è stato un secondo tempo bellissimo. Questa volta il blackout l'abbiamo avuto i primi cinque minuti. E poi ci siamo subito alzati. Tutti insieme. È l'unico gruppo che abbiamo. È tutto unito e si è visto tutto il secondo tempo. Adesso mancano ancora. Quante giornate alla fine del girone di andata? Aiutatemi perché non mi ricordo. Quattro giornate. La prossima contro chi è? Contro il Camerota? Sì, contro il Camerota. Andiamo a fare una partita. Ce l'andiamo a giocare. Come tutte le partite. Ci andiamo a divertire. L'importante è divertirsi. E per il resto vincere.